E' finalmente uscito anche qui da noi Longlegs, il nuovo film di quel grandissimo che è Oz Perkins. Allora, parto subito col dire che io aspettavo trepidante come poche altre cose questo film, perché da quando è stato annunciato mi ha generato una curiosità quasi morbosa, che poi nel corso dei mesi è stata alimentata da post di varie pagine Instagram di cinema americane che seguo, e appunto tutte queste immagini, queste cose che sono trapelate e che forse non avrei dovuto neanche vedere, ma ci arriviamo. E tutto ciò mi aveva quindi generato una curiosità incredibile. Ma allora, io voglio partire dicendo subito una cosa. Allora, poi pare che sono io, mi secca anche dire queste cose, no? L'ho detto anche già per Megalopolis, ma mi secca dire queste cose, perché poi pare che sono assolutista, che so tutto io, che non accetto le opinioni degli altri. No, allora, ci sono delle cose che sono fatti. Ecco, il fatto è che chi critica Longlegs non capisce un cazzo. Allora, piacere, non piacere, è sempre legittimo, ripeto, rigettare un film, non farti piacere un film, è legittimo. Ognuno ha la propria sensibilità e ci sta che un film ti colpisca meno rispetto a quanto vorrebbe o dovrebbe. Quindi su quello non mi metto a sindacare, ci mancherebbe altro. Ma, sull'oggettività, cioè su come fa... Ragazzi, Longlegs è un grandissimo film, lo dico in apertura, non me ne fotte un cazzo. È un grandissimo film e chi lo critica, mi dispiace, ma non ci capisci un cazzo. Ma almeno, non voglio dire di cinema in toto, ma almeno di horror, perché comunque parliamo di un genere particolare. Quindi, come dice Frusciante, non è grave, ma di horror mi dispiace, se criticate Longlegs non capite un cazzo. Ma perché qui stiamo parlando di un film che dal punto di vista tecnico-stilistico, e non dico soltanto tecnico perché tecnica è un termine estremamente freddo, che non rende l'idea, che non rende soprattutto giustizia al visionario, secondo me, Oz Perkins. Quindi dal punto di vista tecnico-stilistico, questo film è perfetto, è più che perfetto, perché ma non parlo solo di regia cinematografica, quindi il campo lungo, il campo medio, lo stacco di montaggio, il primo piano, il momento di macchina, no. Io sto parlando di regia, fotografia, montaggio, sonoro, colonna sonora, costumi, casting, interpretazioni, dialoghi, sto parlando di tutto. Dal punto di vista tecnico-stilistico, questo film da 1 a 10 vale 11, tra le altre cose, fa cagare sotto dalla paura, punto. Cioè, poi la paura, come la risata e come qualcosa di comico, è sempre soggettivo, no, qualcosa che fa paura a me, non fa paura a te, è ok. Però, come dico sempre, io sono aracnofobico, in parte aracnofobico, se mi metti un ragno, il finale viene e mi fa ogni volta cagare addosso, ma se mi fai un primo piano di un ragno, non è che mi hai fatto un grande film horror, fa cagare sotto me perché i ragni mi fanno cagare addosso. Ma, invece, la differenza è che questo film è costruito oggettivamente in modo perfetto per fare paura. Poi che tu ti possa non spaventare guardando questo film, ok, va bene, non lo metto in dubbio, però è costruito in modo perfetto, ripeto, attraverso tante cose che andremo a vedere, perché, ripeto, dobbiamo andare nel dettaglio. Ma comunque, la storia, in realtà, almeno la premessa, è semplicissima. Serial killer, agente dell'FBI, e quindi caccia, gatto e topo. Questo è. Cioè, il più classico delle cose, e infatti una delle tagline del film è il silenzio degli innocenti di questa generazione. Sono d'accordo con questa affermazione, ne parliamo dopo, perché, appunto, voglio fare un attimo, voglio dire, voglio parlare di quello che ho detto poco fa, e cioè, del punto di vista tecnico-stilistico. E voglio partire dalle scenografie, dagli oggetti di scena. Cioè, queste cose qui spesso tendono ad essere dimenticate, no? Ad essere messe in secondo piano. Ah, che bel movimento di macchina, ah, che bella fotografia, ah, questa cosa qui. Ma gli oggetti di scena, la cura per le scenografie, è una cosa che veramente soltanto i grandi hanno. Lynch, penso anche a Dario Argento, mi viene in mente. Una cosa che in realtà è calzante con questa cosa qui. In profondo rosso, la piazza CLN, mi pare, adesso non ricordo la sigla perfetta, di Torino, comunque quella piazza l'historica di Torino, c'è il monumento storico di Torino, e a fianco c'è il Blue Bar di Hopper, uscito direttamente dal dipinto di Edward Hopper. E quella cosa lì, quella giustapposizione di questi due elementi, uno di fantasia, quindi sostanzialmente da un dipinto, e l'altro reale, vanno a creare un ambiente perturbante, come diceva Freud. C'è quella cosa di familiare, ma che però è un po' strano. E ad altri che ha quella sensazione di inquietudine dentro. Ecco, Lynch faceva la stessa cosa con le sue scenografie, ovviamente Twin Peaks è l'esempio principe, ma lo fa sempre. E per certi versi, questo è un film estremamente linciano, anche perché attraverso tante cose, ripeto, in primo luogo le scenografie, riesce a creare un ambiente, ripeto, sospeso. E fuori dal tempo, perché alcune macchine, alcune cose, alcuni oggetti sembrano usciti dagli anni 70, però nel ufficio del detective c'è il quadretto di Kennedy, e quindi siamo negli anni 90. Ma allora dove siamo, effettivamente? È un non luogo, quasi, questo film. È una realtà che sembra esistere soltanto nel film. E poi, ad accentuare questo carattere, viene da dire onirico, ma sì, di fatto onirico, ma sospeso comunque tra realtà e finzione, realtà e sogno, ci si mette appunto anche la tecnica e lo stile di Peckins, con gli stacchi di montaggio, con l'utilizzo della colonna sonora, con tutte queste cose qui, riesce a creare veramente un ambiente sospeso, che secondo me è quanto di più inquietante e bellissimo ci possa essere in un film horror. Ma poi, partiamo un attimo dall'inizio. Ripeto, non spoilererò, quindi chi non ha visto il film può stare tranquillo. I primi due o tre minuti del film, cioè quelli pretitoli di testa praticamente, tu li puoi mandare a 50 festival, ne vinci 49, e l'ultimo non lo vinci perché tutto magna magna, come direbbero Aldo Giovanni e Giacomo. Perché è perfetto, cioè Peckins riesce a fare pura persino col fuoricampo, con l'utilizzo del fuoricampo, lo stacco di montaggio in un certo momento, riesce a terrorizzare con quella cosa lì. È incredibile, Peckins è un genio. Ma comunque, al di là di quest'inizio e dei minuti successivi, che sono anche costruiti perfettamente, anche nell'ottica di diversi colpi di scena, magari queste cose le andrò ad approfondire dopo in una brevissima parte spoiler, ma poi io vi voglio un attimo porre l'attenzione sulle immagini, perché, ripeto, basta analizzare dei frame di questo film per capire come Peckins riesca, ripeto, a fare paura con la composizione del quadro. Per esempio, prendiamo quest'immagine, ok? Allora, quest'immagine è costruita perfettamente. Allora, ipotizziamola sempre solita e ormai abusata regola dei terzi, ok? Secondo la regola dei terzi, che in realtà ha un senso molto semplice, l'occhio cade sulle intersezioni, l'occhio cade su quelle parti lì di quadro. Perfetto. Qui, la composizione è costruita perfettamente per far sì che il personaggio di Mega Monroe non sia né al centro dell'inquadratura e né sulla sinistra, è leggermente a metà, proprio nel posto in cui non dovrebbe essere, cioè l'occhio non va lì dello spettatore, l'occhio dello spettatore va in automatico sulla parte destra della regola dei terzi, appunto, e cioè su quella porta. Tu, in quel momento, da spettatore, non dovresti avere paura, perché non c'è niente che suggerisca l'eventuale arrivo del killer, l'eventuale arrivo di un qualche altra cosa, niente, zero, è lei a casa che ha finito di parlare a telefono e lì e basta. E invece, l'occhio non si smuove da lì. Io ero per tutto il tempo, per tutte e due le volte che ho visto il film, e anche la seconda volta, ero convinto che... cioè ero terrorizzato da quella cosa lì. Ho detto, cazzo, guardavo quasi in modo spasmodico quella porta. Sì, ma cazzo, ma qualcuno arriva da là. Che cazzo sta succedendo? Perché è così? Aiuto? È così, è quel sentimento lì. C'è una scena di Hollywood Ending di Woody Allen, dove dice in Notorious di Hitchcock, ogni volta che guardo quel film ho sempre paura che i nazisti prenderanno Ingrid Bergman. Ed è quella cosa lì. Cioè, anche questa inquadratura è costruita perfettamente per farti cagare addosso, anche alla quinta visione, anche quando sai che in quel preciso istante forse non arriverà nessuno. Ecco, mi faccio con più dubbi possibile. Però anche alla quinta visione, tu sei terrorizzato perché l'inquadratura è costruita perfettamente, perché c'è una maestria, uno stile perfetto. E non soltanto in questa occasione, qui che gioca in realtà sull'assenza e poi non esplode in un jumpscare. E questo è il punto, perché queste cose poi si riducono facilmente al jumpscare finale e via. No. Invece l'attenzione tu ce l'hai per tutto il film. Questo film, cioè inizi a guardare questo film e inizi con l'attenzione. Subito, dalla prima inquadratura, finisci il film, sei ancora in tensione. Cioè, l'attenzione non ti abbandona mai. Sei sempre su chi va là, sei sempre sull'attenti. Ripeto, complice sia una regia perfetta, ma anche proprio scenografie, oggetti di scena, musica, tutte quelle cose di cui parlavo prima. Ma anche l'utilizzo dello sfondo, del fuorifuoco, quest'altra immagine per esempio, e anche qui è costruita in un certo modo. Chi ha visto il film sa. Quindi, ripeto, qui Perkins è, secondo me, la consacrazione definitiva anche a livello commerciale, perché a me February mi era piaciuto un sacco. Sono la bella creatura che vive in quella casa, una cosa del genere. Non mi aveva fatto impazzire, ma lo dovrei rivedere, quindi riservo, insomma, mi riservo un parere dopo la seconda visione. Grande alleanza che mi aveva lasciato esterrifatto, ma qui per me è il suo... Questo è il suo film migliore per adesso, ma è il suo film che l'ha consacrato, sicuramente, perché il film ha incassato un sacco in America. Ma tornando alla cosa di cui parlavo prima, il silenzio degli innocenti di questa generazione, dice una tagline del film, un giornale ha detto questa cosa. Allora, purtroppo, cioè ci dobbiamo rendere conto che purtroppo in America questi personaggi come il killer di questo film, il killer di Longlegs effettivamente, sono all'ordine del giorno. Cioè c'è una scena nel film in cui il killer va a prendere a comprare qualcosa in un negozio, e la ragazzina alla cassa, figlia del proprietario, dice papà, c'è di nuovo quel tizio strambo. Basta. Cioè, io se avessi avuto i Longlegs davanti in un qualsiasi contesto della mia vita, mi sarei cagato nei pantaloni. Punto. Ma veramente cagato nei pantaloni? Ma... in una maniera devastante. Invece lei è tranquillissima. Perché? Questo perché in America personaggi del genere sono all'ordine del giorno. È un personaggio che puoi tranquillamente incontrare camminando per una strada in America a caso. E quindi dobbiamo renderci conto che quel personaggio che per noi italiani, per noi europei, per un altro contesto potrebbe sembrare effettivamente Satana, il male puro, un qualcosa che non esiste, in realtà in America è più che tangibile. Si nomina anche Benson a un certo punto del film, quindi è un po' quella cosa lì. Di conseguenza colpisce molto più forte in quel contesto il film. Quindi che questa cosa sia eccessiva o no, quindi il silenzio degli innocenti di questa generazione, bisognerà vedere. Però, cioè, già il fatto che sia debitore questo film del silenzio degli innocenti lo mette un filino sotto. Però per me la tagline è azzeccata. Cioè, per me... Boh, sarò fomentato dalla visione, sarò fomentato dal film che mi ha fatto impazzire, però per me ci sta. Non sto mettendo i film sullo stesso piano. Attenzione, sono anche molto, 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 molto diversi. Perché questo è un horror puro, il silenzio degli innocenti. No, quindi non ha senso nemmeno fare il paragone. Però rappresenta per anche l'audience americana tutto quello che ha rappresentato il silenzio degli innocenti, secondo me, per questa generazione. Per me sì. Questione Nicolas Cage. Il prossimo che dice che Nicolas Cage non sa recitare lo prendo a mazzate. Basta, sono rotto il cazzo. Perché il prossimo che dice che Nicolas Cage non sa recitare lo prendo a paccheri. Cioè, questo è un regista che ha recitato con John Woo, ha recitato con David Lynch, ha recitato ora con John Perkins, con Oz Perkins, ha recitato... cioè, ha recitato veramente con i migliori, ha dimostrato di essere un attore coi controcoglioni, quindi io non so che cosa deve fare di più. Qui Cage offre una performance straordinaria e qui possiamo anche dire sì, ok, è facile recitare un personaggio così sopra le righe, eccetera, ma qui no. Qui no perché il personaggio è sopra le righe, ma è al limite. Cioè, è ridicolo, è inquietante. Quindi, puoi scadere facilmente nell'essere comico, nell'essere involontariamente comico. È facilissimo, secondo me, per questo personaggio essere involontariamente comico, invece Cage riesce ad essere perennemente inquietante. Ripeto, è quel tipo di inquietudine di Charles Manson, cioè, quell'interrogatorio storico di Manson dove lui comincia a fare le smorfiacce, comincia a fare un po' così, le smorfie, comincia a ridere. È quell'inquietudine lì. Cioè, tu lì, Manson, non lo consideri come un povero stronzo. Tu lì hai paura di Manson. Ecco, il personaggio di Cage è uguale, identico. E il trucco, tra l'altro, gli consente anche di recitare meglio perché, come diceva Barton, il trucco sugli attori permette agli stessi di esprimere meglio parti nascoste di loro stessi. E qui è successo anche con Cage perché è un Cage per certi versi inedito, per certi versi no, però per certi versi inedito e riesce perfettamente in questa interpretazione fantastica. Dal punto di vista contenutistico poi si possono trovare dei problemi, quindi dal punto di vista della sceneggiatura, per me è costruita anche quella perfettamente perché io l'ho visto due volte, lo vedrò poi ovviamente anche una terza e saprò in quel caso scomporlo forse ancora meglio, però alla seconda visione io mi sono reso conto di quanto effettivamente ci fossero tutti gli indizi per scoprire tutto, quindi per quanto mi riguarda la seconda visione torna, per quanto riguarda il giallo, non mi è fatto impazzire lo spiegone finale, però dall'altro lato mi è piaciuto come si è arrivati a quello spiegone, cioè lo spiegone è rappresentato un po' sotto fiaba nera perché c'è una mamma che racconta alla bambina una storia, ecco e noi attraverso questo voice over della mamma che racconta alla bambina una storia veniamo a sapere insomma in modo più dettagliato il tutto, però alla fine io poi mi dico anche in Psycho c'è lo spiegone, quindi ci sta, appunto Perkins, Perkins, anche in Psycho c'è lo spiegone e ci sta, mi è piaciuto comunque come ha deciso di travestire lo spiegone e per me riesce a risultare ancora inquietante, mi è piaciuto anche molto il discorso che fa sulla famiglia americana, sull'istituzione della famiglia, su altre istituzioni, ma ne parliamo adesso perché devo dire un paio di cose e quindi io sto per passare alla parte spoiler, do un po' di tempo per uscire, 3, 2, 1. Dicevo, mi è piaciuto come va a scardinare l'ipocrisia e tutto questo finto bonismo, questo finto idillio della famiglia bianca americana, borghesotta, dei quartieri, di quella cosa lì, mi piace il fatto che a farlo, a scardinare queste cose sia proprio una suora, sia proprio la chiesa in realtà e quindi anche bene puro e male puro, satana e dio, chiesa e satanismo che coincidono, che uniscono le forze per fare appunto del male, anche questa idea mi è piaciuta molto, ripeto, durante entrambe le visioni io ero totalmente sterefatto e ammaliato dalla messa in scena, quindi dal punto di vista contenutistico sono riuscito a prendere poco, riuscirò a prendere sicuramente dalle altre visioni ma ero totalmente ammaliato da quello che vedevo e ripeto, ero terrorizzato, quindi in realtà ho poco altro da dire sulla parte spoiler, il grosso che dovevo dire l'ho già detto, quindi niente, fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate perché per me questo è un filmone esagerato senza se e senza ma, mettete like al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.